Buongiorno a tutti e buona domenica, domenica 13 dicembre, questo è il momento della rassegna stampa su Udinese TV, prima di andare sui quotidiani che troviamo oggi in edicola, come sempre diamo uno sguardo anche alle meteo, alle temperature che si registrano in queste prime ore del giorno in regione cominciamo dalla costa oggi con questa bella immagine che ci arriva dal Golfo di Trieste nel capoluogo regionale in questo momento il termometro segna 7 gradi e 9 decimi sempre sulla costa a grado 7,5 gradi con una temperatura del mare di 12 gradi, 5,6 gradi a Lignano e poi salendo verso la pianura 2 decimi di grado positivi a Cervignano, 0 gradi a Udine, 3 gradi a Cividale 2 gradi e un decimo a Gorizia, in montagna a Tolmezzo siamo attorno allo 0, questa bella foto ci arriva invece da Tarvisio dove in questo momento il termometro segna meno 6 gradi e 7 decimi, sul Monte Lussari in quota meno 4 gradi e 1, sul Piancavallo meno 3 gradi e 7 decimi e sul Monte Zoncolan meno 3 gradi e mezzo a Sappada meno 6 gradi e 3, a Forni di sopra meno 1 grado e 4 decimi, a Pordenone siamo attorno allo 0 come a Udine un decimo di grado sotto lo 0 in questo momento e adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo per questa domenica Un saluto ben ritrovati agli amici di Udinese TV da Vanessa Minotti di Trebi Meteo L'alta pressione tenderà a rinforzarsi sul Friuli Venezia Giulia nella giornata di domenica che sarà caratterizzata da un contesto di stabilità atmosferica, temperature massime in linea alle medie del periodo In dettaglio diamo uno sguardo alla situazione prevista tra Udine e Pordenone, la situazione come vedete sarà ovunque asciutta e stabile, con sole protagonista transiterà solo qualche innocuo annuvolamento temperature massime contenute non allì sopra degli 11-12 gradi ma in linea alle medie del periodo valori minimi invece prossimi allo 0 Diamo uno sguardo anche alla situazione attesa tra Gorizia e Trieste il contesto anche qui sarà ovunque stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi temperature massime non allì sopra degli 11-12 gradi valori minimi prossimi allo 0 su Gorizia raggiungeranno invece i 6 gradi su Trieste Amici di Udinese TV, con questo per il momento è tutto ma per saperne di più restate come sempre aggiornati sull'app di Trebi Meteo E dopo il meteo cominciamo la nostra rassegna stampa, subito le prime pagine dei quotidiani nazionali e vediamo il Corriere della Sera che oggi propone in apertura un'intervista al segretario dell'EPD Zingaretti, governo serve un rilancio, dice Zingaretti Zingaretti spinge ma niente crisi al buio, Conte chiede di scoprire le carte verso il vertice dei leader di maggioranza e poi il decreto ristori proroga alla sospensione dei mutui Il segretario dell'EPD, Zingaretti, a questo governo serve un rilancio Il premier Conte vuole che tutto avvenga pubblicamente e poi appunto anche le ultime novità sul decreto ristori Sempre per quanto riguarda la politica Un'intervista anche alla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni oggi sul Corriere della Sera Meloni che dice non capisco Salvini La leader di Fratelli d'Italia dice di essere stupita da come si comporta Salvini Vuole le elezioni insieme a noi o tornare con il Movimento 5 Stelle? E poi vediamo l'emergenza coronavirus Natale, aperture limitate, censimento per i vaccini L'emergenza è data anche dal numero di vittime L'Italia diventa prima per vittime in Europa E poi vediamo ancora Niente liberi tutti per gli spostamenti di Natale e Capodanno Ci sarà probabilmente una deroga ma limitata solo ai comuni più piccoli e limitrofi Anzi si torna anche ad ipotizzare la serrata nei giorni di festa, ora di pranzo per bar e ristoranti scrive il Corriere della Sera Intanto si cerca di accelerare sulla campagna per il vaccino A metà gennaio potrebbe cominciare la fase 1 con le prime dosi per medici, infermieri, personale e ospiti delle RSA Il commissario all'emergenza Arcuri dovrà censirli già da lunedì prossimo ed inviare la lista aggiornata alla Pfizer Continua la triste conta dei morti In Italia 64 mila dall'inizio della pandemia siamo il paese d'Europa con più vittime E poi la fotonotizia a centropagina con le immagini dei funerali di Paolo Rossi ieri a Vicenza l'ultimo grazie dei ragazzi dell'82 a Vicenza l'addio a Pablito Rossi la bara sorretta dai compagni della Nazionale vediamo Tardelli, Antonioni e Cabrini in questa foto Dalla prima del Corriere ci spostiamo adesso su Repubblica e vediamo in apertura anche qui la politica la verifica di Natale titola Repubblica Conte in forma mattarella gli incontri con i partiti già in settimana per superare l'eliti nella maggioranza le condizioni del Quirinale non toccare i ministeri chiave è una soluzione rapida il PD frena sulla crisi e poi c'è un piano B per i vaccini scrive Repubblica l'Italia chiede all'Europa dosi di riserva a centropagina anche qui vediamo le immagini del funerale di Paolo Rossi l'addio di una squadra di amici scrive Repubblica durante il funerale questa invece è l'altra notizia di cronaca furto nella casa in Toscana del Campione di spalla su Repubblica ancora tanti approfondimenti sul caso Regeni l'inchiesta italiana il governo egiziano sapeva scrive Repubblica ancora andiamo anche sulla stampa il governo allenta la stretta i virologi avvertono sarà terza ondata e poi vediamo a centropagina invece altre due notizie di cronaca Zaki torniamo in Egitto un urlo dalla prigione sto male dovete aiutarmi e poi un'altra storia Rachele l'eroina di Natale salva uno straniero dal treno chiudiamo anche la stampa e andiamo adesso sul fatto quotidiano torniamo alla politica in apertura la lega ti nomina e tu le ridai il 15% esclusivo scrive il fatto quotidiano i documenti su vent'anni di sistema soldi e poltrone dovere morale la delibera del 2001 se ne occupa Giorgetti le carte e i testimoni su come si riempivano le casse del partito l'inchiesta del fatto quotidiano pubblicata oggi in apertura andiamo adesso anche sulla prima pagina del manifesto Zaki chiama Patrick Zaki scrive alla famiglia dalla cella e dice sto male le ultime decisioni sono incomprensibili il giudice del Cairo il 7 dicembre ha confermato il carcere per lui e altre 750 persone una al minuto e un nuovo rapporto i Giulio Regeni d'Egitto svela un'altra atrocità del regime a cui l'Italia vende armi 1.058 morti in prigione dal 2013 chiudiamo il manifesto andiamo adesso sul gazzettino e diamo uno sguardo a nord-est Veneto Record titola il gazzettino in apertura il virus non molla oltre 5.000 nuovi casi e 110 morti in una giornata ma sono in lieve calo i pazienti in terapia intensiva contagiati 8 veneti su 100 e Zaya dice vaccini se tutto sarà confermato si potrà partire tra il 10 e il 15 gennaio c'è solo un dato positivo nel bollettino quotidiano del Veneto giallo negli ospedali si stanno liberando posti in terapia intensiva venerdì erano occupati 375 ieri sono scesi a 369 ma come ha puntualizzato il presidente Zaya è troppo presto per considerare il dato come un indicatore intanto il virus non si ferma e aumentano i positivi 5.098 in Veneto e i morti 110 8 veneti su 100 contagiati se tutto sarà confermato secondo il governo fra il 10 e il 15 gennaio appunto si potrà partire con le vaccinazioni e poi vediamo di spalla il governo frena spostamenti solo tra piccoli comuni nei giorni di Natale e Capodanno e poi vediamo questa foto che ci arriva da Padova folla in piazza delle Erbe e poi anche a Treviso troppa ressa a Treviso centro chiuso questa foto che ci arriva appunto dal Veneto quando ha visto che la fiumana di persone continuava ad aumentare le distanze di sicurezza stavano saltando il sindaco Conte ha contingentato l'ingresso dei pedoni nel centro storico di Treviso e poi vediamo appunto a Padova folla in piazza delle Erbe per quanto riguarda la cronaca di spalla all'inchiesta della procura di Venezia D'Antiga e il Corvo le manovre per avere l'eredità della fedele l'ex parroco chiese consiglio su come ottenerla senza problemi i nuovi dettagli spuntano nelle 1200 pagine con le quali la procura di Venezia ha chiuso l'inchiesta sul Corvo del Patriarcato Enrico di Giorgi e i suoi rapporti con Don D'Antiga ridotto allo stato laicale dal Papa Chiudiamo anche questa pagina del Gazzettino anzi vediamo anche qui nel taglio basso i funerali proprio di Paolo Rossi a Vicenza e anche qui la notizia di cronaca nel titolo principale Pablito ladri in casa nel giorno dell'addio per quanto riguarda la cronaca giudiziaria Veneto Banca mille azionisti come parti lese ma sul processo grava l'ombra della prescrizione Chiudiamo il Gazzettino poi come sempre ritorneremo sulle pagine di questo quotidiano quando andremo a dare un'occhiata alle pagine dedicate al Friuli ma adesso torniamo sui quotidiani nazionali vediamo Libero che apre con il processo a Salvini la buongiorno incastra Conte svolta nel processo al leader leghista l'avvocato di Salvini tira fuori un video che inchioda Giuseppe alle sue responsabilità la decisione di non sbarcare i clandestini era collegiale Toninelli fa il finto tonto in aula il capo del carroccio propone un governo di centrodestra e 5 stelle delusi Chiudiamo Libero e vediamo adesso la prima pagina della verità anche in questo caso vediamo in apertura il processo per il sequestro sulla nave Gregoretti Toninelli ridicolizzato in tribunale scrive la verità Salvini a Catania difende il conte 1 sull'immigrazione e la buongiorno in veste di avvocato massacra l'ex ministro 5 stelle che nel 2019 giurava linea dura senza di me il leghista non fa niente e ora scorda cosa diceva e cosa votava e tra un mese tocca al premier scrive la verità intanto sulle regole di Natale sarà caos fino all'ultimo sui tanti morti in Italia a causa covid la verità scrive record europeo di morti e nessuno vuole spiegare dalla prima della verità andiamo adesso sul giornale apertura sulla stessa notizia Toninelli smemorato scrive il giornale ministro a sua insaputa scena muta al processo caso Gregoretti crolla l'accusa contro Salvini il grillino non ricorda e un video inchioda Conte ancora dalla prima pagina del giornale vediamo adesso anche il sole 24 ore debiti alle famiglie bollette e affitti così il Senato cambia i decreti ristori via libera ai correttivi per le misure anti covid risparmi e semplificazioni per il sovraindebitamento rimborsi al 50% degli sconti per gli inquilini decontribuzione triennale sugli apprendisti nella manovra proroga del bonus aiuti chiudiamo anche il sole e andiamo adesso sulla gazzetta dello sport vediamo anche l'apertura di un quotidiano sportivo il titolo Bobo Natale quattro gare in undici giorni Vieri lancia lo sprint Inter assalto allo Scudetto Roma la Juve a Moraldo e il Milan la testa di Ibra il super ex delle tre grandi ci racconta che cosa accadrà da qui al 23 ma non solo e anch'io vorrei un regalo la gente allo stadio dice Bobo Vieri e poi vediamo nel taglio alto il nostro caro Paolo i ragazzi del mondial all'ultimo saluto i campioni dell'82 ancora più uniti attorno a Rossi con amici e tifosi quante emozioni all'addio a Vicenza durante i funerali è stata svaliggiata la casa di famiglia e poi tornando al campionato tornando al calcio Toro Giù Cairo tutti in ritiro l'udinese ieri ha battuto il Torino a casa sua per 3 a 2 e in casa Toro è crisi fiducia in Giampaolo dice comunque il presidente andremo poi come sempre a vedere anche le pagine della gazzetta dedicate all'udinese ma adesso prima di addentrarci sulle pagine sportive andiamo sui quotidiani locali e vediamo i titoli principali i titoli di apertura dedicati alla cronaca questa è la prima pagina del piccolo Fedriga pronti a metà gennaio così lanceremo il piano vaccini allarme rosso al coroneo il carcere di Trieste ormai 78 i contagiati tra detenuti e secondini e durante le funzioni funebri a Trieste anche 70 80 persone rischio alto scrive il piccolo e poi vediamo i piccoli hotel in crisi fanno gola alle mafie dalla prima pagina del piccolo di Trieste andiamo adesso sulla prima del gazzettino del Friuli e vediamo anche qui i titoli principali c'è il vaccino via i vaccini entro il 15 gennaio l'annuncio della regione dopo il confronto con il governo a Udine anche l'azienda universitaria sanitaria universitaria Friuli centrale aderisce al flash mob che chiede più personale l'appuntamento è oggi alle 11 in piazza a Udine i sindacati preoccupati in azienda 50 sanitari contagiati in un giorno il direttore dice il rischio maggiore in famiglia nei paesi e poi vediamo ancora sempre sulla prima pagina del gazzettino spicca questa foto di Gotti terza vittoria di fila l'udinese stende anche il toro tra poco andremo a vedere anche le immagini della gara ma continuando con la cronaca in azione la banda dei distributori continuano i colpi dei malviventi nelle stazioni di servizio fra Veneto e Friuli Venezia Giulia l'ultimo è stato messo a segno ai danni della stazione di servizio Kuwait sulla strada regionale 74 che collega San Michele al tagliamento a Bibione erano le 23 e 30 di spalla l'export export in calo a doppia cifra in provincia di Udine mobilità bici al rush finale il piano della regione nel taglio basso il trasporto ferroviario in primo piano guerra dei treni i pendolari detective schedano i ritardi sono tornati un po' alle origini dei comitati ferroviari in Friuli Venezia Giulia i pendolari friulani diventando detective per cronometrare al secondo tempi di percorrenza ritardi recuperi e cadenzamenti saltati e in 5 hanno monitorato 162 corse dal 14 settembre al 24 ottobre oggetto di tanto studio i 5 treni passeggeri dello scandalo che dal 14 settembre sono stati spostati nella linea di cintura come a gran voce chiedevano i comitati e ora i comitati stessi hanno voluto vedere l'effetto che fa confezionando un dossier di 26 pagine il risultato più di 5 treni passeggeri sulla linea in trincea non possono starci visto che già viaggiano in cintura una cinquantina di merci la capacità è satura quella linea a due binari ma non funziona come un doppio binario insomma i viaggiatori hanno ribadito la loro contrarietà allo spostamento del traffico passeggeri in cintura prima vanno fatti i lavori dicono andiamo anche nel taglio alto contro lo spreco di cibo decollano le scatole magiche è un'iniziativa per combattere appunto lo spreco di cibo arriva anche a Udine Paolo Bergamasco dalla laurea in scienze forestali a master chef friulani nel mondo e poi il coro di ruda che si impone al Grand Prix internazionale della città di Rimini nella sezione musica sacra all'unico complesso italiano chiudiamo il gazzettino e andiamo sul messaggero veneto cominciamo con il messaggero veneto di Udine e vediamo anche qui il tema vaccini in apertura Fedriga entro il 15 gennaio pronti al vaccino no covid si comincerà dal personale medico e dagli ospiti delle RSA prime dosi per 56.000 persone il friuli Venezia Giulia è dunque pronto ad avviare il piano vaccinazioni e poi sempre per quanto riguarda l'emergenza covid vediamo a centro pagina nelle case di riposo le stanze degli abbracci per le visite agli anziani e vediamo questa notizia approfondita nelle primissime pagine la stanza degli abbracci che abbatte l'isolamento si comincia con la tisana realizzata una struttura gonfiabile accanto all'Umberto I le prossime a Pasiano e a Zano renderà possibili gli incontri e il contatto tra gli ospiti e i loro familiari in totale sicurezza ancora torniamo adesso in prima pagina e andiamo a vedere anche gli altri titoli per quanto riguarda ancora le misure anti covid un caso a Pagnacco tagliano le mascherine a scuola sospesi 11 studenti delle medie è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso dopo una serie di rimproveri di segnalazione alle famiglie di note la dirigente scolastica ha scelto il pugno duro decidendo di sospendere 11 studenti per 20 giorni complessivi di punizione è accaduto la scuola media a Tiepolo di Pagnacco poco più di un mese fa ma la notizia è trapelata solamente ieri a convincere la preside Adriana Cherubini è stata l'ultima di una serie di azioni compiute da un gruppo di studenti contro altri ragazzi e contro il patrimonio della scuola questi ragazzi racconta la dirigente hanno tagliato 30 mascherine anti covid nuove per giocare con gli elastici andiamo di spalla adesso vediamo gli altri richiami di cronaca sedie troppo vicine i vigili a Udine chiudono anche il caffè Contarena e poi in provincia morto Sergio Peressoni ex assessore di Castions di strada e San Giorgio di Nogaro in lutto addio al regista Mario Passero nel taglio alto vediamo l'Udinese lo sport l'Udinese ora corre colpo anche a Torino e poi la pallacanestro Udine che oggi giocherà contro Casale al Carnera gara che potrete vedere in diretta su Udinese TV e adesso andiamo anche nella destra tagliamento sempre attraverso le pagine del messaggero Veneto prima di addentrarci come sempre nelle pagine sportive allora vediamo subito la prima pagina vediamo che i titoli principali sono gli stessi andiamo a vedere invece le altre notizie nel taglio basso gli eccessi nella zona gialla dopo il posta chiusi altri due bar a Pordenone vediamo prima il sedicenne in coma etilico e lo stop per 25 giorni al bar posta nella centralissima piazza 20 settembre poi un analogo provvedimento al bar Banni dove qualcuno ha tentato anche di aizzare gli avventori contro gli uomini della questura infine polizia e finanza al cavallino con stop di 5 giorni e multe a titolari e clienti il rientro in zona gialla a Pordenone è stato vissuto da qualcuno come un liberi tutti di qui un vertice in prefettura tra forze dell'ordine ed esercenti intanto ieri in centro tutto esaurito tra mercato del sabato e corsa ai regali di Natale e in ospedale il sanitario il personale sanitario già sotto pressione non ringrazia di certo scrive il messaggero vediamo di spalla il punto sui contagi in provincia di Pordenone due donne morte 147 positivi focolaio a San Vito l'omicidio mascherato confermati 26 anni Castellani uccise per sete di denaro maestra in quarantena Prata stop alle lezioni in 6 sezioni su 9 e vediamo anche qui la prima pagina del fascicolo di Pordenone dove si parla appunto dei contagi da coronavirus morti altri due ospiti 147 persone positive alla casa di riposo di San Vito al tagliamento si amplia il focolaio il personale dell'istituto dice ci sentiamo sconcertati e inermi e poi le polemiche sui test antigenici l'azienda sanitaria Friuli occidentale dice indicazioni chiare ancora andiamo anche nel taglio alto e vediamo medici caduti il dolore del presidente dell'ordine dei medici Cordoglio in provincia per la scomparsa del dottor Antonio Cataldo ha 66 anni a causa del coronavirus una morte in trincea la definita Guido Lucchini presidente dell'ordine dei medici e degli odontoiatri che con lui divideva da 30 anni lo studio chiudiamo adesso queste pagine del messaggero Veneto e iniziamo la nostra rassegna stampa sportiva ci addentriamo dunque sulle sulle pagine sportive sul fascicolo sportivo siamo sul messaggero Veneto iniziamo da qui la nostra rassegna stampa e vediamo subito in apertura la vittoria dell'udinese contro il Torino è finita 3 a 2 ieri più forte di errori e infortuni quest'udinese non si ferma scrive il messaggero in vantaggio per 2 a 0 dopo aver perso Noiting e la testa subisce il pari del Toro nel giro di 62 secondi gol decisivo di Nestorowski e allora andiamo a vedere le immagini della gara di ieri andiamo a vedere il servizio di Alessandro Surza tanta paura ma alla fine l'udinese trova meritatamente la terza vittoria consecutiva alla seconda in trasferta e vola superando anche il Torino al termine di una partita pazza i bianconeri vanno sul doppio vantaggio poi staccano la spina e subiscono la rimonta granata prima della decisiva rete di Nestorowski che regala tre punti ai suoi Gotti può festeggiare il ritorno in panchina l'udinese comincia bene il filotto di partite che la attendevano da qui a Natale e l'udinese dopo il minuto di silenzio dedicato a Paolo Rossi comincia bene anche la gara col Torino una partita molto tattica inizialmente ma con i bianconeri che cercano subito di prendere il pallino del gioco e al 24esimo va in vantaggio Wallace recupera palla senza fare fallo su Meite Deulofeu mette in porta Pussetto che davanti a Sirigu non sbaglia e fa 1-0 trovato il gol la banda Gotti inizia a giocare con più serenità e non soffre mai nei primi 45 minuti l'unico neo del primo tempo è l'infortunio di Noiting che lascia il campo e viene sostituito da Becao nella ripresa invece succede letteralmente di tutto al 54esimo i friulani trovano il raddoppio con un gran gola di De Paul che su tocco di Pereira la piazza a giro dal limite e fa 2-0 da sottolineare la bella giocata di Bonifazi che dal via all'azione l'Utinese inizia a gestire il match e poi di colpo si addormenta per 60 secondi e subisce l'incredibile rimonta del Torino prima Samir perde palla sull'attacco di Bonazzoli che serve Belotti che non può sbagliare da due passi e subito dopo su un lancio lungo dalla sinistra la sfera arriva lo stesso Bonazzoli che col Mancino trova lo spiraglio e buca ancora Musso sul primo palo 2-2 partita finita ma che passano due minuti e nel miglior momento del Torino segna l'Udinese Pereira scatta ed entrinare asservendo un cioccolatino al neo entrato Nestorowski che fa 3-2 da 2-0 a 3-2 in 240 secondi dopo la terza rete bianconera i ritmi calano un po' ma a 5 minuti dal termine i padroni di casa sfiorano il nuovo pareggio con Rodriguez che colpisce una clamorosa traversa direttamente su calcio di punizione si salva l'Udinese che stava per non vincere una partita che invece ha meritatamente portato a casa finisce 3-2 con le zebrette che adesso vedono la parte sinistra della classifica e martedì affronteranno a Udine il Crotone per il Torino invece crisi senza fine e torniamo adesso sulle pagine dei quotidiani di oggi ancora il messaggero Veneto De Paul cuore di Capitano voglio continuare così per fare felici i nostri tifosi detto De Paul le prossime gare diranno per cosa potremmo lottare e poi anche Nestorowski siamo diventati una squadra forte che gioca a calcio ancora andiamo a vedere anche le pagelle che troviamo nella pagina successiva che spettacolo gli argentini prova autoritaria di Bonifazi sette e mezzo per Pussetto secondo Massimo Meroi e come già con la Lazio è difficile scegliere il migliore in campo dell'Udinese alla fine ci siamo orientati sull'attaccante argentino che è abbinato per 80 minuti e qualità e quantità la prima la messa sia nella ripartenza sia in fase di ripiegamento da applausi quello pochi secondi prima di uscire su Bonazzoli la seconda nell'azione del gol in un altro paio di situazioni in cui per poco non arriva alla conclusione per cercare la doppietta e poi vediamo una gara positiva anche per tutti gli altri 8 per Musso per poco non riesce a stoppare la conclusione di Belotti che riapre la gara spiazzato da Bonazzoli che fa 2 a 2 scusate 6 per Musso vediamo bene i voti 6 per Musso 7 e mezzo invece per Oltrapussetto De Paul e per Eira 7 per Nestorowski e Bonifazi 6 e mezzo per Noiting Struger Larsen e Mandragora 6 per Becao Zegelar e Deulofeu insufficiente solo Samir sua la corbelleria che rianima il toro sbaglia solo in quell'occasione d'accordo ma è un errore imperdonabile ancora vediamo anche le parole di mister Gotti al termine della gara il nostro miglior momento spero debba ancora venire dice il mister Luca Gotti analizza il filotto bianconero e dice ma quel blackout non lo digerisco poi un augurio ho perso Noiting magari solo fino al periodo natalizio si teme lo strappo al polpaccio sinistro per l'olandese vedremo quali saranno i risultati degli esami degli accertamenti ancora vediamo le parole del mister che parla anche di come ha lavorato in questi giorni in cui non ha potuto seguire sul campo gli allenamenti della squadra con la tecnologia ho potuto assistere a tutti gli allenamenti gestire le riunioni avere colloqui con i giocatori chiudiamo il messaggero veneto e andiamo adesso sulle pagine del gazzettino sempre per continuare a parlare di Udinese sempre per continuare a raccontare la sfida di ieri il gazzettino scrive Pussetto goleador tre le reti in campionato per l'argentino rientrato dal Watford imbeccato da Deulofeu ha dimostrato freddezza nel punire Sirigu positivo anche l'innesto in difesa di Bonifazi d'utile e preciso sette per Pussetto secondo il gazzettino secondo le paginele di Guido Gomirato sette per Pussetto ma anche per De Paul per Eira e Nestorowski e poi vediamo sette anche per Bonifazi secondo il gazzettino e poi vediamo appunto tutti gli altri voti che vanno dal sei al sei e mezzo un cinque per Samir e poi vediamo nel taglio basso le parole di Marino che dice il meglio deve ancora venire e De Paul con Tuku gioco a occhi chiusi su Noiting con il suo infortunio temo che lo rivedremo in campo solo dopo le feste del nuovo anno e ancora vediamo sempre sulle pagine del gazzettino le parole di Gotti e l'umiltà di Gotti niente paragoni con il passato altalena di emozioni per l'udinese sul campo del Torino anche se il risultato di 2 a 3 non descrive a sufficienza il dominio territoriale avuto dei bianconeri contro un Torino sempre più lontano parente di quello delle stagioni scorse ma il merito è anche della squadra di Luca Gotti brava a punire tutte le debolezze della squadra Granata e poi appunto per ritornare al titolo niente paragoni con il passato leggiamo il paragrafo che si riferisce proprio alle parole del mister ieri si è sbloccato anche Nestorowski e Gotti ha ottenuto il 48esimo punto in 38 panchine partite sulla panchina dell'Udinese a una media punti simile a Zaccheroni e Guidolin sono molto contento per la vittoria che ci porta in una posizione di classifica più consona il fatto che contestualmente si possano fare accostamenti con persone che hanno scritto pagine di storia dell'Udinese gratifica ma ho fatto solo 38 partite e ancora nulla detto il mister non c'è bisogno di etichette c'è bisogno di fare le cose bene l'allenatore oggi vive in continua precarietà non abbiamo tempo di goderci il momento con il crotone abbiamo già un altro match importante pensiamo al presente non c'è bisogno di etichette questo è il messaggio di Gotti e poi nel taglio basso Nestorowski aspettavo il mio momento e poi anche Bonifazzi che dice ho lavorato molto per questa gara chiudiamo questa pagina del gazzettino adesso e andiamo sulla gazzetta dello sport sempre per parlare di Udinese continuiamo dunque a parlare di Udinese e vediamo anche qui le pagine della gazzetta che raccontano la gara di ieri a Torino cominciamo con questa doppia pagina il Torino è nei guai un'altra follia 100 secondi per riprendere l'Udinese da 0 a 2 poi il blackout i Granata recuperano con i gol di Belotti e Bonazzoli appena un minuto dopo Nestorowski realizza il 3 a 2 definitivo Cairo duro i giocatori mi hanno molto deluso la squadra va in ritiro e vediamo anche le pagelle della gazzetta con un Torino da 4 e mezzo un Udinese da 7 per i migliori vediamo un 7 all'allenatore e Gotti e un 7 anche a De Paul il migliore secondo la gazzetta dello sport un 7 però anche a Pereira in gazzetta e a Ziegler andiamo anche nella pagina successiva e vediamo anche qui invece il focus sull'Udinese De Paul e Pereira che show Udinese hai la premiata ditta il Diez ancora in gol il Tuku firma due assist Argentini Super il capitano dice ci capiamo senza guardare il mio gol è suo la coppia non scoppia mai fa scoppiare gli altri scrive Francesco Belluzzi nel suo articolo sulla gazzetta in questo caso il Torino Rodrigo De Paul e Roberto Pereira della serie Dio li fa e poi li accoppia anche ieri due argentini amici per la pelle hanno messo la firma sulla terza vittoria di fila dell'Udinese in gol per la terza volta il Diez due assist per il Tuku le mezze ali bianconere sono il vero valore aggiunto della squadra che Luca Gotti sta modellando alla perfezione col Tuku mi capisco senza guardare ha detto a fine partita raggiante Don Rodrigo capitano e anima di una squadra che sembra giocare con una tranquillità incredibile salvo poi regalare in un minuto e mezzo i due gol che avevano rimesso in parità la sfida al grande Torino e poi appunto c'è tutto l'articolo che prosegue e che lascio a voi leggere sulle pagine della gazzetta di oggi di spalla due appunti noting out stiramento Gotti spero sia per poco vedremo cosa diranno gli esami e poi invece una curiosità il giallo a Juan Musso Musso per di tempo è al terzo giallo al quinto c'è la squalifica scrive la gazzetta chiudiamo anche la gazzetta dello sport e adesso ritorniamo un attimo sulle pagine dei quotidiani locali perché ieri è sceso in campo anche il Pordenone e purtroppo per il Pordenone non è stata una bella giornata ha perso a Pisa per uno a zero ecco le pagine del gazzettino ramarri errori pesanti dopo un buon primo tempo i neroverdi pasticciano e regalano al Pisa l'occasione per passare in vantaggio Perisan rinvia male con le mani Vogliaccio perde la palla e i nerazzurri festeggiano in dieci dovremo avere anche le immagini del gol di Palombi eccolo qua appunto il rinvio sbagliato e poi il Pisa che intercetta il pallone e segna il gol partita questa è la pagina del gazzettino e vediamo ancora le parole di Mr. Tesser gol su nostro errore non abbiamo saputo rimediare Tesser ammette con il Brescia bisogna trovare il riscatto e ancora andiamo adesso anche sulle pagine del messaggero Veneto e vediamo anche qui la pagina che ci racconta la sfida di ieri tra Pisa e Pordenone Pordenone sterile e distratto così a Pisa arriva il secondo KO i neroverdi pericolosi solo una volta con Calò poi a inizio ripresa prendono gol da Palombi inutile finale con l'uomo in più la lucidità di Tesser un passo indietro ma era gara da pari sempre sulle pagine di questo quotidiano vediamo anche l'approfondimento dedicato alla palacanestro all'Old Wild West il poster in edicola la vittoria al Carnera domenica impegnativa per l'Old Wild West la capolista cerca il sesto successo di fila archiviato il Tour de Force con tre vittorie in trasferta in otto giorni la più torna a giocare sul parquet amico del Palasport Carnera ospitando la 9 più casale si punta alla sesta vittoria su sei in campionato così da confermarsi in vetta alla classifica del Girone verde gara che ricordo lo potrete seguire in diretta su Udinese TV dalle 17.30 in poi collegamento live con il Carnera ecco qua la locandina che ci ricorda appunto la diretta di oggi dalle 17.30 palla 2 alle 18 Wild West Udine 9 più Monferrato andiamo prima di salutarci a dare un'occhiata anche alle altre due prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali che prima non abbiamo visto tutto sport e corriere dello sport le mettiamo una accanto all'altra tutto sport fino a 50 anni titola in apertura con le foto di Ibraimovic e Ronaldo intervista a Miura classe 67 che continua a giocare in Giappone CR7 e Ibraimovic sono eccezionali possono andare avanti sino alla mia età oggi la Juva Malassi contro il Genoa e anche qui nel taglio alto non vogliamo lasciarti mai gli eroi dell'82 baggio le lacrime di Vicenza addio Paolo Rossi e poi vediamo invece il corriere dello sport Conte uno solo titola in apertura a Cagliari alle 12.30 per rilanciarsi e non far godere i nemici Inter ripartiamo Eriksen arriverà il suo momento dopo la Diol Europa ora l'obiettivo è il campionato non ci sarà Vidali in attacco spazio a Sanchez e poi a centropagina la Lazio una Lazio senza difesa cade anche con il Verona Con queste due prime pagine di Tutosport e Corriere dello Sport noi chiudiamo questa nostra rassegna stampa di oggi questa nostra prima diretta qui ne seguiranno tante altre allora vi ricordiamo velocemente i principali appuntamenti di oggi su Udinese TV alle 10 saremo nuovamente live con il nostro primo TG di giornata poi alle 12 ancora un notiziario alle 14 studio e stadio post rivivremo assieme le emozioni della gara di ieri del dopo partita di ieri assieme a Massimo Campazzo e gli ospiti che ci hanno tenuto compagnia ieri sera alle 16 un'altra edizione live del nostro TG e poi alle 17.30 la diretta della gara di basket tra la Palacanestro Udine e Monferrato poi il TG News 24 alle 20 e questa sera alle 20.30 i grandi concerti poi alle 21.30 studio e stadio commenti sempre in diretta assieme a Francesco Pezzella e ai suoi ospiti e alle 23 la replica della partita di basket della Palacanestro Udine ed è davvero tutto per questa nostra prima diretta di oggi grazie per la vostra attenzione e ancora buona domenica grazie per la vostra